Santa Maria delle Mole, la voce interiore attraverso Roberta S., a cura di VB, guide. Fate pure una domanda se ne sentite il bisogno, altrimenti lasciate che chi ha più bisogno faccia la domanda. Domanda. È difficile per noi talvolta essere coerenti. Ci troviamo in situazioni che ci sbaragliano e ci fanno perdere la via. Cerchiamo sempre di aumentare la nostra energia positiva. Talvolta frequentiamo chiese, abbiamo bisogno di un qualcosa che ci dia energia in più. Come possiamo fare? Guide. Dovete abbandonare l'idea di avere bisogno di una carica in più. Dovete abbandonare quell'idea che vi porta a sentirvi incapaci di raggiungere quello stato d'essere così sublime, che ritenete tale, perché noi vi diciamo che in realtà voi non avete bisogno di essere sempre felici e sorridenti. Voi avete bisogno esattamente di quello che state vivendo ora. Avete bisogno di essere a volte tristi e cupi e a volte sereni e spensierati. Avete bisogno dell'oscillare del bene e del male, come lo vedete voi con i vostri occhi umani. Ne avete bisogno semplicemente perché fate parte di quel bene e di quel male. Fate parte di un'esistenza fatta di tanti colori, non di un solo colore. E volervi aggrappare per forza a una sola energia vi porta inevitabilmente ad evitare quella stessa energia. Poiché vi sentite costantemente incapaci, vi sentite non in grado di aggrapparvi a quell'energia, ma è un vostro pensiero e quel pensiero crea questo vostro stato d'essere e di non essere capaci. Vi convincete, in un certo senso, di non poter stare sempre al meglio e in questo modo voi non state al meglio. Potete arrivare a vivere quei momenti che ora considerate cupi e tristi con un'altra carica, con un'altra energia, e non perché quei momenti tristi e cupi devono smettere di esserci, ma perché voi dovete smettere di avere paura della tristezza e di quello che considerate negativo, perché la vostra paura è indice del rifiuto dell'esistenza così com'è adesso, ossia un'esistenza fatta di molteplici aspetti. Vorreste una vita fatta a senso unico, ma non è così. La vita è a doppio senso e voi percorrete a volte un verso, a volte un altro verso, ma non per questo non siete bravi o non siete in grado di donare amore al mondo che vi circonda. Potete migliorarvi, questo è vero, potete riuscire, cioè, a sentirvi in grado di poter scegliere di volta in volta da che parte stare e che verso seguire.